Il parco urbano di Trentova è un progetto del comune di Agropoli, di cui la sola progettazione venne finanziata dalla regione con fondi pari a 150.000 euro e che almeno fino ad ora è stato messo da parte dall'amministrazione. Il parco venne pensato principalmente per creare una zona che facesse da cuscinetto alla baia, in modo da non rendere troppo affollata la spiaggia nel periodo estivo, ma anche perché il comune agropolese si trova in forte deficit nei confronti dello standard nazionale di verde pubblico attrezzato, il quale requisito minimo è di 9 metri quadrati per abitante, mentre Agropoli ne ha a disposizione solo 4 metri quadrati per abitante. In seguito alla progettazione del parco ci fu la bocciatura da parte della sovraintendenza, perché il progetto avrebbe rischiato di far scomparire i valori paesaggistici dell'area e da quel momento il progetto è rimasto tale. A tal proposito sono intervenuti i cittadini agropolesi del Movimento 5 Stelle, mostrando la loro disapprovazione per come si è mossa l'amministrazione in seguito alla bocciatura della sovraintendenza. Secondo i 5 Stelle il parco sarebbe stato molto utile per la città e avrebbe aumentato gli spazi verdi che, attualmente, ad Agropoli sono molto ridotti. Sempre secondo loro la bocciatura è stata plausibile, visto il modo in cui fu pensato di costruire il parco urbano. Troppe opere architettoniche in una zona agropolese di grande valore naturalistico. Le critiche all'amministrazione non sono mancate, infatti i 5 Stelle hanno accusato il Comune di aver buttato lavoro e soldi, senza nemmeno richiedere una variazione allo studio d'architettura riguardo il progetto, in modo da renderlo più verde e meno artificiale. In generale l'amministrazione Coppola è stata accusata di avere zero interesse per il verde pubblico, di aver buttato migliaia di euro di finanziamenti e di porre poca attenzione sull'area Trentova Teresino.